Ciao a tutti, sono Vitalandia e benvenuti in un nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, SIGA! Bene, prima il soggetto iniziale è acqua. Bene, oggi io voglio parlare, come mai questi giorni ho fatto meno video, perché mentalmente non stavo bene. Nel senso che non avevo voglia di fare niente. Certe volte anche mi, non so dire, mi strofavo questa vita qua, che non conosco nessun abito. Sono solo dei web, anche dei tattigiani, sì, ho dei conoscenti sulla piscina, però sono solo dei conoscenti. Avevo un amico, forse mi passi per strada. Sento che sono sbagliato in questa vita. Il senso che mi sentivo fuori posto qui. Già quando andavo a ballare sentivo un pezzo fuori d'acqua, perché erano tutti etero e io no. Per quello non vado più a ballare. Per quello non vado più a ballare. Per esempio... Dentro di me mi sento male, ma fuori fingo quando vado lì. E non voglio più a ballare. E non voglio più voglia di fingere. Quindi per quello ho deciso di non andare più. Per andare lì a ballare, per fingere, no. Quindi io ho preferito non andare più. Poi sono sempre ancora più distratto. Nel senso che giovedì, l'altro giovedì dovevo andare in piscina. Cosa è successo? Ho menticato il costume. Non pensavo che la sera... La sera... Non io. La sera... L'avevo messo del bossone, della piscina. Invece no. Sono distratto con di più. Io... Sto oludiando la mia vita. Voglio sostorriare. Voglio... Porferdare sotto la terra. E poi... Ho delle persone... E poi... Manca... Usire con... Con un altro ragazzo. Con... No, un ragazzo. Volevo dire... Un educatore. Un maschio. Un maschio. Invece no. Ma con tutte femmine. Tutte donne. Anche per questo motivo... Mi sono sottosto della... Progetto casa. Ci sono... I vecchi video... Sul progetto casa. Andate sul... Sul mio canale... Troverete... Una scheda con scritto il tema. Troverete anche lì. Ah! Metterò... Qui... Il link... Del... Della obbliga... Il tema. Torniamo a noi. Scusate che ho... La gola secca. Sono un po' nervoso. Comunque... Vediamo. Ah! Per questo motivo... Mi sono dato via... Del progetto casa. C'erano educatrici donne. Io non mi sento bene con le educatrici donne. In questo periodo. Quindi ho... Per quello... Anche per altri motivi. Non avevo manco... Tempo per me. Quando andavo lì. E... Qualche... Qualche altro. Questa. Ma... Sì... Da... Da... Oggi che tolista all'area... Io non vado... Preferisco entrare in casa, registrare video su video, pensare quale video fare della mia lista dei video da fare e... ho tante cose da fare, quindi... voglio fare tante cose da fare e... mi sento meglio adesso adesso e... niente per oggi per oggi termina qui se il video vi è piaciuto mettete il like chiudetevi al canale e... se la vostra vita è grigia sorridete perché vedete una vita sola Ciao, alla prossima! Grazie a tutti!